Perché i luoghi vengono abbandonati? I motivi dell'abbandono possono essere diversi. Per quanto riguarda le fabbriche o le attività commerciali, il motivo più scontato è senza ombra di dubbio il fallimento, la banca rotta o il trasferimento in paesi extra Europa dove la manodopera costa decisamente meno rispetto a quella nazionale. Per quanto riguarda invece le case può essere per la scomparsa dei proprietari i quali non hanno eredi oppure semplice menefreghismo degli eredi. Infatti per ereditare delle proprietà bisogna versare delle tasse. In più per edifici vecchi bisogna spendere cifre ingenti per la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti elettrici e quant'altro. E non tutte le persone hanno voglia o possibilità economiche di accollarsi delle spese del genere. Oppure anche per questioni ereditarie. Ci sono delle dispute, non si trova un accordo e quindi l'immobile resta lì in totale stato di incuria. Altrimenti anche qua trasferimento all'estero dei proprietari. Per altri video seguimi.